Ciao Abel, tu sei un grande campione alla Roma, hai dato tantissimo. Oggi Match for Peace, partita per la pace e le tue emozioni. Bellissima, partecipare a un evento così del genere, dove si può far capire al mondo che si può condividere, vivere in pace, anche se ognuno ha le sue idee, ha diverse religioni. È un ottimo pensaggio per questo periodo di crisi che si sta vivendo a livello mondiale. Il Papa che emozioni ti dà? Fortissima, fortissima perché è una persona straordinaria, piena di amore, di energia positiva. Sono di ispira di sentimenti che sono anche molto difficili da esprimere. Infatti sì, è stata veramente una bella emozione per tutti quanti, per chi ha partecipato da fuori, ha detto c'è una grandissima partecipazione. Cosa ti porta via dentro di te questa emozione? Una serata di grandi ricordi perché ho trovato tantissimi vecchi amici che era da tempo che non vedevo e tutti quanti abbiamo contribuito, anche insieme a tutta la gente, a tutti voi, a tutti quelli che abbiamo partecipato in qualche modo a questo evento, a mandare un messaggio forte di pace al mondo. Ecco, un messaggio di pace che tu manderesti a tutti quanti. Sì, pace si può condividere anche insieme, anche se si ha delle idee molto diverse a volte. Grazie, salutiamo tutti, ciao!